Salve a tutti Blazers e benvenuti in una nuova puntata della BlazeCraft. Mobzilla è il nome del nostro prossimo obiettivo. Mobzilla è il boss più potente di questa versione della Orspawn, quindi è l'obiettivo massimo di questa serie. Ora che abbiamo la Big Bertha, abbiamo il setup perfetto per poter affrontare Mobzilla, perché abbiamo l'attacco migliore della Orspawn e la difesa migliore della Orspawn. Ovviamente di questa versione, che vi ricordo non è aggiornata, non è l'ultima versione, però vedremo, magari poi l'aggiorneremo per fare anche le cose più nuove. Comunque sia, mi sono un attimo informato su Mobzilla che pare essere un boss da 4000 HP, quindi 4 volte il Kraken. E' già questo boss per incuterti timore, abbastanza, ma pare che faccia anche 150 di danno a colpo, il che è una cosa bestiale. Ora non so quanto difenderà la Ultimate Armor, però mi sa che i colpi li sentiremo abbastanza. Poi, dove si trova Mobzilla? Si trova in un'altra dimensione, la Village Dimension, quindi la dimensione dei villaggi. La raggiungiamo trovando la formica arcobaleno. Come al solito, poi, cliccando sulla... Ah, Lender Knight, lo volevo one-shotare, vabbè. Dicevo, come al solito, cliccando sulla formica, vieni teletrasportato nella dimensione. Ecco, prima ancora di entrare in questa dimensione, però, ovviamente per farlo dobbiamo trovare questa benedetta formica, ho già abbassato tutti i settaggi grafici, infatti vedete una grafica meno bella del solito, perché comunque sia, Mobzilla è un mob che spara fuoco dappertutto, distrugge cose, genera esplosioni, quindi immaginatevi già il lag che ci sarà. Eccolo qui. Sì, sì, ma te, continua a fare il figo, che io ti one-shotto. Dunque, visto che qua non si trova niente, direi che, come al solito, andiamo nella foresta iniziale, che, visto che qua ci sono più... più formiche, abbiamo trovato un po' tutte qua, quindi magari anche la Rainbow la troviamo. Tra l'altro, nella minimap c'è una cosa verde gigantesca di lì. Chissà che... che cazzo è? Non vorrei distrarmi, perché abbiamo l'obiettivo fissato per questa puntata, però mi incuriosisce. Chissà che cos'è sta roba verde. Dovrebbe essere... qua. Ma non c'è niente qua. Ci sarà un mob sottoterra, qualcosa del genere? Ah, se no, mi sa che è un Mutant Creeper, mi sa. Sì, mi sa che è un Mutant Creeper. Ci sarà sottoterra un mutante, semplicemente. Sono certo di aver visto una formica arcobaleno da queste parti, tipo nelle prime puntate, non so se l'avevo anche registrata. Però, ovviamente, come al solito, non si trovano, quindi bisogna portare pazienza. Tra l'altro, non ci sono proprio formiche qua. Ah, eccone una rossa. C'è una formica rossa. Ok, una formica c'è. Però non è arcobaleno. Magari proviamo a guardare anche di qua. Eccola! Pensavo che era desponata! Oddio! Trovata stra-caso, ragazzi. Ho avviato la registrazione appena ne ho vista una. Perché c'era un sacco di nidi di formiche normali. E di colpo ho visto quella. Solo che appena ho avviato sembrava essere sparita. Mi sono cagato addosso. Comunque sia, ci siamo a questo punto. Siamo... Già vedo cose strane, vabbè. Ma siamo nella dimensione dei villaggi. La dimensione di Mobzilla, per l'appunto. Ora, dove sia Mobzilla è un mistero. Non ne ho idea. Ho letto sulla wiki che Mobzilla si trova in questa dimensione. Che attacca i villaggi. Però non so come spawna, quando spawna. O se c'è un modo per farlo spawnare. Perché non c'erano informazioni di questo tipo. Una golden apple e una moneta. Una moneta che droppa robe? Sono diventato una moneta anch'io. Ah, c'è anche... Ok, c'è anche della pubblicità sulla moneta. Ok, pubblicità della mod. Questo... Questo coso. Hanno inserito praticamente un mob per farsi pubblicità. Il che, boh, è un po' discutibile. Però, vabbè. Che cazzo? T-shirt? Altra pubblicità. Mio Dio, c'è due mob per farsi pubblicità alla mod. Incredibile. Hanno fatto anche una t-shirt. Ok, vabbè. Non voglio saperle neanche, ste cose. Perché rovinano... Tutta l'atmosfera che c'è. Mobzilla. Boh, non so come possa spawnare. Tra l'altro qua è pieno di ragazze e villager. Probabilmente vivono tutti assieme. E sembra abbastanza pacifica come dimensione. Non diresti mai che c'è... C'è un boss di tale portata. I villager scappano anche in questa dimensione. Hanno paura di qualcosa. Quindi magari stanno spawnando robe. Che cazzo? Che cazzo è? Dei robottoni. Sono spawnati dei robo... Robopounder. È un boss. Vabbè, è scarsissimo, ok? Vabbè che io ho la Big Bertha, quindi... Devo starmene zitto. Ma che... Che roba è? Picchiano... Picchiano le donne, sti cosi. Ma stiamo scherzando. Ci sono dei boss che picchiano le donne. Aspet... No, allora, aspettate un attimo. Sto vedendo cose troppo strane. Allora, torniamo a Eren. Allora, sono... È proprio quello che penso. Sono tipo quelle motociclette elettriche per i vecchi, però sparano con dei cannoni. Ok, sto vedendo cose che non concepisco. Ah, e qua c'è una stalattite volante. Ok, tutto sotto controllo. Beh, ostile è ostile questa dimensione, però... Non c'è Mobzilla. Robo Warrior, un altro robot. Cosa droppano quei cosi, tra l'altro? Non droppano niente di loro. Droppano solo... Oggetti a caso. Tra l'altro, tutti questi oggetti non li voglio avere nell'inventario. Perché... No, Robo Laser Charge. Attenzione, qualcosa hanno spawnato in realtà. Che cazzo è stato? Un bombardamento? O è Mobzilla? È arrivato Mobzilla? Via, levatevi. Mobzilla! Oddio! Oddio, così, a caso? Proprio senza neanche... Avvisarti un minimo. Che... È tutto raso al suolo! È micidiale! Tra l'altro mi sta già attaccando, mi sa. Allora, proviamo a colpirlo. So che lo si può colpire. Minchia! Tutto... Vado a fuoco. Aspetta... E la madonna! Mi spinge anche via. Dicevo, si può colpire solo in faccia o nei piedi. Sono gli unici due punti in cui è vulnerabile. E sta... Ha raso al suolo tutto il villaggio! È bellissimo, mamma mia. È bellissimo sto coso. Meno male che ho abbassato la grafica, però, ragazzi, perché... Chissà come fa laggare. Ok, li tolgo 100 a colpo. Se è così, potrei... Dove sono finito? Potrebbe essere fattibile. Daie! Daie! Ah, ma è inavvicinabile, cazzo. Appena mi avvicino... Mi... Mi spinge via i chilometri, tra l'altro. E qua ci sono tutti i vari robot. Ok, ok. È un casino. Lo abbiamo capito. Allora, proviamo a tornare lì. Io ho sferato forse solo un colpo o due. Ma tra l'altro stanno combattendo Mobzilla contro... Contro quei cosi. Allora, mangiamoci anche una mela dorata. Così abbiamo dei vantaggi. Proviamo? Ok. L'ho spinto via anch'io. Contra colpo micidiale. Dov'è andato? Dov'è andato? Vieni qua. Non puoi scappare. Sei mio. Ti devo fare il culo. Te vattene subito, immediatamente. Vai, vai. Quattro... Quattromila di vita? No, recupera pure vita sto coso? Ma minchia, ma... È eterno sto combattimento. Poi non mi posso neanche avvicinare. Cioè, non mi fa tanto danno, eh. Perché mi avevate detto che con la Ultimate Armor sarei stato comunque in difficoltà. Cioè, me l'ha detto una persona o due. In realtà non mi fa un cazzo con la Ultimate Armor. Non mi fa tutto sto danno. Anzi, adesso addirittura niente con questo colpo. Però mi spinge via. Non posso avvicinarmi a lui. Cioè, questo combattimento è infinito. Perché se lo colpisco, c'è contraccolpo e va via lui. Mi colpisce lui. Mi spinge ai chilometri di distanza. Non ci facciamo tanto danno. Lui recupera vita. E voilà, abbiamo un bel combattimento infinito. Come facciamo? Allora, sentite. Se Davide ha battuto Golia, ce la farà un Eren volatile uccellino giallo ad abbattere un Mobzilla? Secondo me è già meglio. Quindi, proviamoci così. Lo so, ragazzi. La Morph, Voli, è un cheat. Sti cazzi, ragazzi. Se no, ci butta via in continuazione. Proviamo così. In faccia. Gli entriamo in bocca. Non gli faccio danno la testa. Dovrebbe essere l'altro suo punto... Ah, ecco. Infatti l'abbiamo colpito. È l'altro suo punto debole. Però è tipo è buggato. Non si capiva niente. Dobbiamo provarci. Dobbiamo provarci in qualche modo. Vai. Proviamoci. Vai. Gli ho sestato un altro colpo. Non è abbastanza. Lui recupera vita. Devo fare una bella combo. Così, vai. Cinque colpi. Sei colpi. Sette. Vai, 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 vai. Ragazzi, spaccherò il mouse oggi. Oggi spacco il mouse. 3.200. 3.200 di vita. Non è impossibile far fuori Mobzilla. Così non è impossibile. Se stiamo ai suoi piedi, ci continua a spingere via. Anche qua lo fa, a dire la verità. Però ai piedi è una cosa impressionante. Non c'è proprio modo di... Di farli più di un attacco che ti spinge via. E ora che torna ha recuperato vita. Quindi il combattimento sarebbe infinito. Dobbiamo giocarcela in maniera tattica. E secondo me questa è la tattica migliore. Vai, 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 vai. Picchiamolo, picchiamolo, picchiamolo. Oddio. Sta recuperando vita. Non penso di aver fatto molti progressi. 3.300 ha recuperato vita. Non sta. Dai. Proviamoci. Che comunque sia, ragazzi. Penso che sia questa la tattica per abbattere Mobzilla. Al di là della morfe. Voi potete venire qua con il vostro cefadrome. E affrontarlo volando. Quindi è questa la tattica giusta. Perché se no non mettevano la hitbox anche sulla testa. Capite? Quindi ci sta tutto. Devo anche mangiare però io. Se non mangio è finita. Ok, vai. Riprendiamo. Riprendiamo. Vai. Mamma mia. Sarà uno scontro interminabile questo. È lo scontro più difficile mai fatto. Le super schivate. Attenzione. I dribbling tra le fiamme. Chissà se le posso buttare indietro le cariche di fuoco. Magari è un altro modo per fargli danno. Tipo gli respinge il suo stesso attacco. Eh, però. Però vieni qua, eh. Perché se te ne vai così non finiamo più. Vai. Proviamoci. Proviamoci. Allora se si gira e spara provo a buttargli indietro. Però non mi caga più. Mobzilla, guardi anche me al posto di attaccare chiunque. Per piacere. Sono io il tuo avversario. Vieni qua. Ti uccido tutto. Ti uccido tutto quanto. 2200? Dai, dai 2200. Ce la possiamo fare. A me non mi fa un granché di danno. Anche se mi colpisce. Quindi la ultimate armor, ragazzi. È, è, non so. È una cosa stra-OP. È impressionante. Dai, ma continua a scattare. A girarsi in maniera laggosa. È un casino. Dai, su. Ce la possiamo fare. E il bello è che non sono solo perché anche i robottoni lo stanno attaccando. Loro lo colpiscono ai piedi mentre io lo colpisco in testa. Perché lui, tipo, attacca chiunque. Quindi si è inimicato anche tutti gli altri mob. Cazzo, ridendo e scherzando mi sta uccidendo anche me, però. Devo recuperare un attimo di vita. Sono meno, a meno della metà della vita. Cazzo, non mi ero neanche accorto. Pensate un po'. Allora, mangiamoci una mela dorata, così per stare tranquilli. E continuiamo. È, 1800. Ha recuperato in un attimo 300 di vita. Appena ti distacchi un attimo, recupera. Proviamo con l'arco. Eh, l'arco mi sa che... Non gli fa un cazzo. Non gli fa un cazzo l'arco. Dai, proviamo, proviamo. Forse abbiamo anche un bonus di danno. No, non abbiamo un bonus di danno. Vabbè, fotte sega. Ce la possiamo fare. Dai. Dai. È tutto scattoso, laggoso. Mamma mia. Vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Ecco, li ritiro tutti indietro. Proviamo. Si può fare, mi sa. Si può fare. Ho visto uno che tornava indietro. Però è un casino, perché te ne spara tipo 500 alla volta. È troppo un casino. Cazzo, mi sta per uccidere. Mi sta per uccidere. Ho bisogno di una mela dorata ancora. Vai, rigenera. Rigenera tutto. Me ne serve un'altra. Me ne serve un'altra. Eh, ragazzi, non è facile come sembra. Perché comunque mi sto sforzando di colpirlo, di schivare. E nonostante questo, lui mi riesce a colpire me e quasi ad uccidermi. Devo stare attento, perché quando meno te l'aspetti ti fa il culo anche lui, eh. Dai. Proviamo. 1200. 1200. Buono. Buono. Ancora, ancora. Li togliamo 80 alla volta. Però quando mi colpisce lui fa veramente male. Fa veramente male. Sembrava che non facesse un cazzo, invece le sue scariche fanno malissimo. Mamma mia. Vai, 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 vai. Dove sono? Dove sono? Ero entrato tutto dentro di lui. Sembra una telecronaca di un film porno più che di una boss battle. Me ne rendo conto, però. Era abbastanza strano. Ero compenetrato nel modello di Mobzilla. Vai, 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 cazzo. 756. C'ho il dito che si sta spaccando, talmente ho cliccato. E tra un po' inizio a pezzare dalla fatica. Però, in qualche modo, ce la dobbiamo fare. Dove è andato? Ok, non scappare prima che mi despawni e mi metto a piangere. se mi despawni, sinceramente, perché è una cosa molto impegnativa combatterti. Vieni qui, vieni qui. Non gli ho fatto mezzo danno. Lui mi ha fatto male cane, porca di quella puttana. Cazzo, fa male sì, fa. Fa male sì. Devo provare... No, mi ha ucciso, porca troia. Mi ha ucciso, ragazzi. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Proviamo a rispawnare, vediamo dove finiamo. Porca puttana Eva. È forte, è forte Mozilla, è molto forte. Allora, waypoints. Ultima morte. Ci sarà un delirio, immagino. Eccolo qua, dov'è? Eh, sì. Sì, sì. Mi dicono che ce la faccio a recuperare la mia roba. Ragazzi, in qualche modo sono riuscito a recuperare un po' di cose. Mi mancano i leggings. Ah no, li ho presi, sì. Però è tutto straconsumato, porca troia. È tutto straconsumato. Comunque qua c'erano anche delle mele dorate. Penso che vengono droppate... Madonna. Vengono droppate da... Dagli alberi della dimensione. Quindi noi le usiamo assolutamente. Vediamo che si può fare. Dai, ancora... No, mi sta uccidendo ancora. Mi sta uccidendo ancora. È impressionante. È impressionante. Non so perché mi fa tutto sto danno adesso. È come se... Si fosse potenziato. Non lo so. Magari quando è vicino alla morte si potenzia o qualcosa del genere. È veramente... È durissima. È durissima questa boss fight. Mi servirebbero altre mele dorate come minimo, però... Adesso se mi avvicino... È probabile che mi sciotti lui. Non lo so. Allora... Si droppa qualcosa. Tipo questi alberi. Droppassero una mela dorata. Così al volo. Perché le ho già usate tutte. Proviamoci lo stesso. Proviamoci. Cerco di stare alto. Così... Non dovrebbe riuscire... A spararmi. Proviamo così. È laggatissimo però così. È laggatissimo. Porca troia. Mi ha preso in pieno. Mi ha preso in pieno. Vai. Vai così. Provaci. Provaci. Ok, gli ho assistato qualche danno. Scappo dai colpi. Ok. Mi ha tolto metà vita. Mi ha tolto metà vita. Con qualche colpo ancora mi ha preso. Proviamoci, dai. Cadiamo verso le gambe. Cadiamo verso le gambe. Minchia. Mi ha ucciso subito. Mi ha ucciso subito. Devo ancora farmi la corsa per recuperare tutto. Ok. Ho recuperato tutto di nuovo. Ora mi intossico di mele dorate. Perché devo avere il massimo della resistenza. L'armatura è agli sgoccioli, ragazzi. Me la devo giocare adesso o mai più. E sta recuperando ancora un sacco di vita, lui. Dai. Proviamoci. 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 Vai. Vai. 800. Ok. Dai. Questa scarica di colpi c'è stata. Ancora. Mela dorata. Non posso rischiare più un cazzo. Devo proprio essere al massimo delle mie possibilità. Però così non mi riesco neanche ad avvicinare. Devo attaccarlo in testa. Oltretutto il lag si sta facendo veramente insopportabile. Perché qua distrugge sempre più cose. C'è fuoco ovunque. Dai, però, quando non colpisce è una cazzata. Quando non colpisce fa incazzare, proprio. Speriamo che agri i robot. Almeno posso attaccarlo più. Eh, sì. Sì. Non agri un cazzo. Non agri un cazzo. Lì c'è pure della lava tutta fuori uscita. Ok, sta aggrande il robot adesso. Ora sì. Posso approfittarne. Posso approfittarne. Andiamo. Dai, 800 cazzo. 800. Ma porca. Di nuovo, di nuovo. Ha recuperato vita. Sta recuperando vita sicuramente. 700. Dai, 700. Significa che li stanno facendo la guerra anche loro. I robottoni li stanno facendo la guerra. Quindi. Se aiutassero un po' di più magari. Porca troia. Vai, 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 vai. Proviamo a scappare prima che ci attacchi. Ok, 600. Però lui continua a recuperare. Recupera 5 a botta. Una cosa impressionante. Vai, proviamo ancora. Vai. Eh sì, però quando... Non lo colpisco. Non lo colpisco perché è tutto buggato. 650. Sta recuperando un sacco di vita. Sta recuperando un sacco di vita. Si gira in continuazione. Proviamo alle gambe. Vai. Ok, 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 ok. Ho visto un 500. Chi offre di più? Chi offre di più? 400. Vai. Vai. 390. Mamma mia, ragazzi. Il sudore. Il sudore puro. Allora. Vai. Vai. Ancora un altro, un altro, un altro. 286. Non ci credo. Non ci credo. Sono agitatissimo. Vai. Mamma mia, 231. 231. Mela dorata per sicurezza. Mela dorata per sicurezza. Non ci credo che ce la sto per fare. Vai. Vai. 186. Qua, ragazzi, due colpi ed è andato. Due colpi va giù. Due colpi va giù. O io o lui. O io o lui. Il tutto e per tutto, ragazzi. 146. Sta recuperando vita. Sta recuperando. Guardate quanta cazzo ne recupera. 121. Madonna. Ogni volta mi respinge, porca troia. Perché se no gli tiro una scaricata di colpi. Non ce la faccio le gambe. Non ce la faccio. Devo attaccarlo qua. Devo farcela. Devo farcela. Sto attaccando a caso. Non capisco più niente. Non capisco più nulla. Dai. Dov'è la faccia? Vabbè. Proviamo le gambe. Proviamo. Mi ha respinto. Sta recuperando un sacco di vita. Tantissima. Ok. Un colpo gliel'ho dato. Un colpo gliel'ho dato. 120. Recupera subito. Sto stronzo. Sta recuperando tutto. 50. 50, ragazzi. Forse con un colpo va giù. Forse con un colpo va giù. Ti prego. Dimmi, dimmi che ce la faccio. Sì. Sì. Sì, ragazzi. Cazzo. Cazzo. Sono anche diventato un mobzilla io. Cos'è sta merda? Che cos'è sta merda? Merda. Ragazzi. È caduto un sacco di drop. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Mi stanno ancora attaccando, tra l'altro. Mi sta attaccando il robottone. Allora. Mori subito. Vediamo l'armatura. È conciatissima l'armatura. Madonna. Dov'è tutto il drop di coso? No. Sul serio. Dov'è andato il drop di mobzilla? No, ragazzi. Sul serio. Ah, eccolo qui il drop. Eccolo qui. Veramente. Stavo per sclerare malissimo. Ma, minchia. Quanto drop ha lasciato? Un sacco di armi. Di carne. E queste scaglie. Che sono le scaglie di mobzilla. Allora, prendo tutto quello che posso. E poi, appena riusciamo, ce ne andiamo via di qua, perché non vedo l'ora di essere a casa e di godermi tutto sto drop. Dunque, ragazzi. Qua continua il casino. Infatti sta laggando tutto tantissimo. Mamma mia. Ok, ragazzi. Sono scappato volando dal casino, perché tra le esplosioni, il fuoco, il drop ovunque, robotoni che sparano razzi, 3000 mob, c'era un lag che non si riusciva a respirare. Per cui sono scappato un attimo in alto. Ho raccolto comunque, bene o male, le cose più importanti. Perché c'erano questi attrezzi ultimate, soprattutto il piccone... Ah no, il piccone l'avevo recuperato poi, guardate qua. Ha della... Ha meno durabilità, è stato consumato, per cui forse era il mio che sono riuscito a recuperare. Pensavo che l'avevo perduto. Comunque qua ce n'è un altro e ho recuperato un ultimate bow nel drop, perché il mio era andato perso chissà dove. L'armatura è tutta fottuta, purtroppo non ho trovato altri pezzi d'armatura, ma vabbè. Abbiamo le scaglie di Mobzilla. Abbiamo le scaglie di Mobzilla con le quali possiamo fare una nuova armatura. Quindi la faremo con queste scaglie. Visto che la ultimate armor è da buttare a sto punto. Tra l'altro, mamma mia, cioè, ci siamo andati vicinissimi alla rottura. Vabbè, meno male, ci è andata bene. È stata una boss fight difficilissima. Veramente lunghissima. Infatti mi sa che taglierò pesantemente perché sto registrando tipo da un'ora, non so, qualcosa del genere. E ce l'abbiamo fatta però. Abbiamo battuto Mobzilla, ragazzi. Abbiamo battuto Mobzilla. C'è chi diceva che era impossibile. Invece ce l'abbiamo fatta. Per cui, ragazzi, pioggia di like, come fosse grandine. Commentate, ditemi quello che volete. Oggi è un giorno di festa. Fate come volete. Condividete se volete sopportare la serie. E noi ci vediamo alla prossima puntata dove godremo di tutti questi ricchi premi. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.